La Polizia di Stato, appartenente alla squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha tratto in arresto un 27enne ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il giovane, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, ben occultata all'interno del veicolo di grossa cilindrata utilizzato dall'indagato. Per tali motivi il 27enne, con precedenti specifici, è stato arrestato il Pubblico Ministero di Turno presso la locale procura della Repubblica, ha disposto che l'indagato venisse collocato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.